La nostra è ormai diventata una società dell'informazione. La diffusione di Internet ha praticamente riscritto i modi in cui si raccolgono, si scrivono e si leggono le notizie, permettendo ai giornalisti di diffondere un articolo a livello mondiale in pochi secondi e ai lettori di disporre di una quantità di dati, notizie e informazioni impensabile fino a 20 anni fa. In questa rivoluzione culturale e tecnologica è cambiato anche il modo stesso di fare giornalismo. Al posto del cronista che viaggiava a piedi, armato di taccuino e penna in cerca di notizie, si è oggi diffuso il giornalista che affronta le sue ricerche utilizzando molte fonti diverse, alcune delle quali del tutto nuove. Dagli archivi online alle interviste dal vivo, dalle ricerche di banche dati, radio, televisione, comunicati stampa delle forze dell'ordine, mail, blog, social network, filmati, riprese satellitari, fonti di open source intelligence e testate giornalistiche online. Allora, come 20, 30 o 50 anni fa, il tipo di giornalismo che richiede la maggiore capacità di saper leggere le numerose fonti di informazione è quello investigativo. Mai come oggi il giornalista ha a disposizione tantissime fonti di informazione, ma si trova anche nella necessità di distinguere la verità in mezzo a un mare di indizi. Il corso di giornalismo investigativo della Freelance International Press propone a chiunque intenda lavorare nel mondo dell'informazione le basi necessarie per iniziare a muoversi in questo complesso e affascinante mondo grazie alle lezioni video realizzate da esperti del settore che vanno dalle applicazioni della criminologia al reportage di guerra, dall'analisi dei dati online fino all'esame delle fonti di open source intelligence. Grazie a tutti.